buonasera ragazzi datemi un secondo perché abbiamo il nostro buon stavros che è collegato in giro quindi adesso oh cavolo abbiamo tutti spostati andros tu dovresti essere in alto a sinistra quindi andiamo andros tu sei in alto a sinistra non ti si vede ok corradin tu sei in alto al centro stavros ti metto direttamente il travolta a te no tra l'altro ho notato che mi sa che ho spostato dei file perché il john travolta non appare più c'è solo il buco nero però questo mi dispiace ci contavo sinceramente qualcuno pensasse che avessi un minimo di e scusatemi lo faccio stessa roba anche su quella con fantasy ground allora abbiamo detto andros stavros alto a sinistra dovrei automatizzarle ste robe qua tu sei a alto centro stavros con il buco nero e telperion basso sinistra io stavo pensando una cosa ragazzi noi abbiamo tre giorni prima che finisca il patto il patto ma dal la partenza di sidon a mailtros potrebbero metterci più di tre giorni per arrivare e se dovremmo usare ancora oltre se mettete a portarci per andare a battacombattere esatto allora ragazzi scusatemi un attimo ne approfitto e non faccio sentire l'audio per un paio di motivi allora sono uscite un paio di novità su fantasy ground un paio di novità grosse allora la prima è questa e adesso ve la condivido per chi riesce ad aprirla che adesso non so se si vede anche da casa la risoluzione abbiate pietà è bassa perché l'ho dovuta fare io al volo prendendole o da una mappa animata che avevo e quindi siccome non capivo perché non mi funzionasse ho fatto dei tagli dei file molto piccoli per fare la conversione dei file in webm molto più veloci sennò più più è grosso il file più tempo ci mette a fare la conversione cosa hanno fatto hanno messo che si possono usare i file webm e webp nelle mappe questo vuol dire mappe animate che non se state notando per questa mappina si vedono le moschine che si muovono e gli alberelli il fruscio delle foglie e quant'altro ci sono poi dei siti di cui probabilmente mi scriverò come patreon sai quella roba tipo mi sa che è saltato di nuovo stavros mi scriverò per una volta come patreon e poi mi disiscrivo cioè sai quelle robe ti scrivi scarichi tutto e ti disiscrivi gli regali molto infame molto infame ma se me lo metti a 25 dollari al mese io 25 dollari al mese per avere la massima risoluzione cioè devi essere gesù cristo perché io ti dia 25 dollari al mese per per le mappine devi proprio essere gesù cristo te le posso dare per un paio di mesi non di più perché se no che mi faccio l'abbonamento li butto via cioè sai se sono quelle da 5 euro uno ci può pensare a fargli il patreon fisso ma se me lo metti a 25 dollari il top tier quello per averlo a 4k che è la risoluzione che ti serve per metterlo qui nelle immagini per voi vedete qui che è sgranato no si si è sgranati sgranatissimo perché una 1080 come mappa 1080 e fate conto che con la ricompressione video quant'altro c'è un sacco di perdita qua sopra però questa è una prima novità quel periodo del mese si tra l'altro è una prima novità la seconda novità è che questa non l'ho ancora provata ma relata refero abbiamo giuseppe che ci sta continuando a saltare se si li rilogga scrive o scrivetegli voi ditegli che se al limite si attacchi alla solo alla chat ok su disco si attacchi solo a discord oppure meglio ancora dite di questo discord sul cellulare e il resto sul portatile che così come fa come faceva il fede quando aveva problemi di connessione per aver per dividere su due canali le robe giuseppe giuseppe ci stai sentendo adesso sì allora ti do un consiglio l'alternativa è discord sul cellulare e il resto sul portatile infatti ho fatto questa prova ma ti confermo che è qualcosa di indecente credo volete le case figli al mare mai detti ma è che fa lo switch ogni tanto l'albergo tra una wifi e un'altra wifi non so perché c'è due linee wifi e ogni tanto fa lo switch cioè chiude una e ne apre un'altra no e quindi allora l'altra novità che stavo dicendo è questa che consente in teoria questa non l'ho ancora provata di sal esportare i jpeg le immagini delle mappe non chiedetemi adesso come si fa dovrei guardare però in teoria ci si può esportare le mappe questo improvvisamente per me dà senso alle mappe create dentro fantasy ground perché prima non le potevi esportare sapete che fantasy ground vi dà quella roba per poter creare le mappe dentro con i tiles e combinandoli un'altra cosa figa del webp e webm è che si possono usare come layer quindi tu puoi avere una mappa statica e mettergli gli uccelli che volano le onde che si muovono ok ma come lei è come che come fa adesso con layer degli effetti speciali tipo la nebbia la pioggia però puoi mettere che so l'effetto di un esplosione o robe simili ai capito diciamo che non fa tutta la mappa ma puoi selezionare una zona specifica no no proprio li copi come se fossero delle gif trasparenti e le incolli sulla mappa ma qui non si può fare lo stesso per gli effetti delle spell e poi spostarli sì e l'altra cosa aggiuntiva è che adesso non so se ci spenderò dei soldi i token animati e già i token animati sono tanta roba foglio quello di andros che si scaccola allora quindi questa è la roba sulla parte grafica che comunque sembrerà una cazzata per i più però secondo me era la una delle grosse mancanze che aveva rispetto a un foundry vtt rispetto a un foundry vtt qui ha recuperato veramente tanto recuperato veramente veramente tanto perché le mappine animate è una roba che un po si invidiavano al agli altri virtual tabletop detto questo l'altra novità è che hanno integrato sirenscape dentro il gioco quindi proprio qua ci sono le librerie dei dei suoni ci si collega con il proprio account se sia o se si sono scaricati i suoni tra l'altro dovrei provare a vedere se funziona anche sound set se funziona anche al di fuori di sinescape ma credo di no comunque come funziona che se io vado qui io praticamente voi invitate i giocatori alla lobby non cliccare tu giuseppe abbi pietà perché sennò crash e voi cliccate su questo link che appare sia a si apre un'interfaccia web e io poi posso controllare i suoni tipo posso mettere battle begins è simile a quello che facevo io con voi ragazzi sul sito esterno solo che adesso questo a parte avere meno problemi nel sito esterno di caricamenti e cose varie puoi comandarlo da fantasy ground si puoi far partire i suoni da fantasy no era birds come dirà come cavolo si chiama non mi ricordo come si chiamava il sito ho capito però se era quello che condividevi i suoni ed era gratis quello è è quello che aveva i pacchetti tipo la casa della morte oppure il pacchetto incontro nella foresta sì 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 quello ce l'ho capito il sistema di funzionamento è identico semplicemente come funziona la roba è che tu dai dei comandi web all'interfaccia quando quando il master clicca sta mandando un input online al proprio al sito di sirenscape e chi è collegato in quella lobby se inizia a sentire quella cosa carino perché potete comunque abbassarvi il volume come volete regolarvelo tutti sentono non c'è bisogno come io qua se no per farlo io il suono che sentite quando faccio così è perché io ho un mixer quando mi parte qua eccolo qua quando faccio così è perché un mixer ok che ridendo e scherzando costa è farselo così cioè uno dice ma sirenscape mi costa se prendersi la roba di avere il mixer lo stream deck e fare tutti i collegamenti manuali per poterli lanciare i suoni sì i suoni sono gratis sono quelli di youtube però te li devi cercare te li devi categorizzare te li devi scaricarci devi spendere le ore per farla la roba e il mixer non è gratis cioè quindi quindi ha una cosa molto carina quindi ragazzi vedremo un attimino tra l'altro poi sono usciti dei set di dadi nuovi vedremo un po come non so se prenderli però penso che voglio vedere se ci sono i token animati per darli a un po ai giocatori o ad alcuni mostri il problema è che ho visto i costi e mi sono un po rimasto male adesso devo vedere quanti token ci mettono dentro perché mi sono rimasto male mi sono rimasto malissimo ok ci sta ultima cosa ultima roba che mi è arrivata una roba che credevo di non aver tolto però e sto pensando di far vedere che la assemblo mentre sono in live vediamo se si vede drago bianco occhi blu oi metti a fuoco maledetto ah me lo scura perché me lo scura perché penso aspettate che gli tolgo voi si ma in quello nella telecamera da casa no perché c'è la sfocatura dello sfondo tolgo la sfocatura sfondo eccolo qua il blue eyes white dragon che l'ho preso in realtà perché è un lasciate perdere yugioh è un fantastico drago bianco o o mitril anche se si vuole è un è un eccezionale drago da usare voglio vedere come viene quanto è esattamente grosso però sarebbe un drago antico adulto adulto antico gargantuesco più gargantuesco secondo me come drago ne ho un no però ne compri tre ne compriterei gli incolli le tre teste no cioè e butti via il resto e butti via il resto del drago assolutamente no e poi è un drago posabile per cui è anche carina come cosa io ho un filino di draghi eh là sopra voi non lo vedete ma ho anche uno dei più grandi affari della mia vita ho beccato il colossal red dragon ce l'avete presente quello di d&d sì l'ho preso a a 50 euro se guardate il prezzo se è tipo a 2 o 300 euro l'ho preso a prezzo di quando è uscito a prezzo di quando è uscito ho provato bene ragazzi aspettate che rimetto un attimino anche perché il buon marcello starà dicendo sì però bello bello ma avete rotto il cazzo e continua a temare esatto mi sembri mi sembri un po' zero calcare quando quando ti penso si dice sì sì bella bella però ma avete rotto il coglioni andiamo a pigliare un gelato? cioè ci andiamo a pigliare un sidon vorrebbe più che altro qua sopra in effetti dove siete rimasti l'ultima volta? l'ultima volta fondamentalmente è stata due cose una bomba dal punto di vista di drop di lore che i giocatori hanno scoperto perché hanno trovato la pergamena del patto la pergamena del patto che se volete sapere tutto in retroscena vi guardate l'episodio scorso ma a grandi linee hanno scoperto che Maitros e Balmitria stessa cosa la dea Maitros il drago Balmitria è la stessa cosa e i cinque dei erano draghi ed erano i draghi dei signori dei draghi quindi a parte Telperion che ha le sue parentelle draconiche erano tutte famiglie tra l'altro perché allora mi fa presto il nome adesso a Volcan Volcan era il marito di Balmitria e gli altri quattro erano i figli sì dopodiché l'altra cosa è stata un un bellissimo shit show da parte mia nel incontro con le tre grandi furie le signore delle rinni Tisifone Tisifone Megera e Tisifone e Tisifone erano Aletto Megera e Tisifone e Tisifone e Tisifone con la et che doveva essere un incontro un po' preoccupante per i giocatori soprattutto visto che se la stanno tirando a lungo senza poter riposare ma complice uno è il fatto che sono immuni al veleno perché hanno il l'effetto del banchetto addosso e il master che era tirava come se fosse un erano usava il controllo il joypad per mirare contro il nostro buon Stavros quindi detto questo però vi consiglio di guardarvi la puntata perché arriva a un certo punto dove diventa veramente da ridere proprio comica cioè ha perso ha smesso di aver senso dal punto di vista statistico proprio ti hanno detto a meno che non sia andato a soltellizzarlo allora effettivamente 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 Marcello potevi diventare spergiuro anche tu e dovevamo mettere a contrasto queste due sfor queste due forze universali no no esplodevo il mondo è presente come il gatto e la fetta di pane imburrato esattamente genera l'energia infinita esatto il modo perpetuo se anche il gatto non muore oppure come Yondu avevamo queste frecce che colpivano chiunque tranne il loro bersaglio no bene vero allora siamo rimasti che avete ucciso le tre signore le tre furie signore delle rinni e vi ritrovate in questa stanza con un planetario a meno che non siate gente di cultura e la media vostra non lo è almeno e soprattutto perché Bulbug abbassa di gran lunga la media probabilmente non avete una grandissima idea di cosa sia il planetario ok invece che cosa facciano quegli oggetti quell'oggettone enorme il cannocchiale un po' un'idea ce l'avete perché non è la prima volta che ne incontrate uno dai Stavros guarda no andate prima voi stavolta tra l'altro ricordo che tu hai ancora visione del magico attivo giusto Stavros si si eravamo vabbè quanto dura aspetta aspetta non è a concentrazione visione del magico che cosa aveva lanciato di concentrazione lo spirito draconico non è a concentrazione o si 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 niente più niente più visione del magico però quando eravate entrati avevi sentito che c'era sta a aura di magia di di incantamento da questi due oggetti entrambi ok ragazzi basta chiacchiere sta a voi cosa volete fare ci do un'occhiata a cosa al telescopio al binocolo hai già due oculi quindi questo è un monocolo casomai al monocolo al telescopio vabbè dai vado io ha detto marcello no vado a vedere ricordati che c'hai vantaggio sui tiri salvezza su saggezza nel caso cosa stai cercando stanno andando a telescopi allora a cosa stai pensando Andros è puntato sulla flotta di Sidon ok capito secondo me si focalizza su dove tu pensi allora sarebbe forte need è un po' ingombrante da portarselo dietro need lo mettiamo sulla nave minchia tipo cammone ho vantaggio eh non è per te non è per te effettivamente improvvisamente vedi che il cannocchiale nel cannocchiale zoom 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 e nansi l'immagine continuamente e arrivi e vedi Sidon molto arrabbiato furioso c'è il il cielo è plumbeo sta sembra manifestare il livore del titano stesso con fulmini e onde che si scatenano appena intorno alla nave che è scossa con molti inservienti molti gigan che cercano di calmare il loro il loro signore sembra essere su una su una nave circondato da parecchi soldati e riesco a vedere bene la nave la nave io presumo che la miraglia di Sidon sia una una diversa dalle altre la mia presumo sembra particolarmente grande ti ricordi che però erano abbastanza grandi quelle navi che avevate incontrato perché erano di dimensione per poter trasportare gigan proprio come equipaggio esco vedere Sidon e la sua nave Corradin l'hai beccato al primo colpo è quello che stavo cercando riesci a capire quanto distano da maestro non ho punti riferimenti sono in mezzo al mare un mare in tempesta possiamo vedere se c'è una tempesta nell'altro globo magari da lì lo capiamo corro alla sala del trono e cerco sulla mappa nella zona dove avevamo visto andare Sidon circa circa lì circa cerco tempeste ce ne sono il problema è che è una zona molto ampia l'importante è è una zona molto ampia ma al più vicino quanto distano da maestro allora tieni conto che c'è nuvole aspetta scusa c'è nuvole in tutta questa zona qua ok quindi al più vicino si trovano qua quant'è di navigazione da qui a maestro se si dan vuole un giorno e mezzo forse meno perché lui può spostare può spingere la nave però non può attaccare prima della fine del patto esatto abbiamo comunque tre giorni quindi è indifferente quanto io si vicino è che se noi vogliamo affrontarlo se noi vogliamo affrontarlo prima che recuperi i suoi poteri dobbiamo farlo prima che arriva a maestro prima che passino i tre giorni dobbiamo farlo prima che passino i tre giorni esatto quanti assi probabilmente non arriverà perché lui non può attaccare ma maestro può attaccare quindi se no mi scolpato lui non può attaccare a maestro lui no a maestro cioè la città tutti tutti a parte vallus possono attaccarlo allora sì giustissimo c'è un problema arrivare un giorno prima come faccia non torno indietro l'area coperta dalle nuvi è troppo grande sulla mappa una una larga sezione del mare è coperta da nuvole in tempesta se lui fosse stava alla cima alla testa del tempo del clima temporalesco dovrebbe di stare da maitros un giorno e mezzo due non può attaccarla prima della fine del patto quindi abbiamo ancora tre giorni esatto il problema stavo finendo il problema è che se non sappiamo dove andare esattamente non possiamo raggiungerlo dalla sala del trono c'è possibile in realtà farlo no non è più visibile la sua nave dalla sala del trono dal telescopio allora perché avrei comunque una linea di vista è il teletrasporto che non è non è che funzioni da qua dentro il teletrasporto esatto indubbiamente se Coradin vede dal telescopio la nave inquadra la nave il problema è che non è detto non è detto che funzioni abbiamo già fallito più dettagli vede della nave più è probabile che quando passeremo in grado di usare il trasporto tipo trovano il torniamo sulla ultra da lì possiamo transportarsi scuoto il capo scuoto il capo se facesse così la probabilità di andare fuori bersaglio è altissima perché lui non c'è mai nemmeno stato in quel luogo ok però se lo vede sa benissimo com'è fatto non basta devo vederlo nel momento o ci portiamo il telefono sulla ultra ha ragione o lo sta guardando nel momento in cui usa l'elmo oppure deve andare a memoria un luogo che ha solo osservato e non di persona almeno non stando sul posto quindi senza avere una corretta percezione delle dimensioni delle distanze il rischio di finire fuori bersaglio è talmente alto che rischierebbe di mandare a monte tutto quello che abbiamo fatto finora è perché solo versi poteva usare il Little Lion ricordatemi perché perché lei ha il sangue di Sidon perché ha un oracolo e ha il potere già insito di vedere le cose lo potevano vedere lo potevano usare le parche perché anche loro hanno la capacità di vedere il futuro noi non ne siamo provvisti Vitano ma quanto tempo ci vuole per la Ultros per ritornare a Mitros fare contro potremmo non arrivare in tempo potrebbero volerci tre giorni come più tempo e non c'è sacrificio che ci permetterebbe di arrivare prima l'unica cosa sarebbe raggiungere la Ultros e da lì teletrasportarci noi a Mitros io non vedo alternative se non quelle di approntare delle valide difese abbiamo un colosso da riattivare e in più se noi fossimo là tutti insieme uniti ai adesso è così uniti ai draghi forse una possibilità di contrastare Sidon c'è il problema è che Sidon aspetterà di riavere indietro i suoi poteri noi siamo molto più potenti di ciò che erano i signori dei draghi a quel tempo i draghi hanno sacrificato tutto per portare Sidon e Luteria a una partita per sottrargli i loro poteri la loro immortalità non sappiamo cosa tornerà a Sidon cosa sarà in grado di dare ad altri suoi figli non sappiamo quanto vasto è l'esercito sì una difesa valida e coraggiosa è di sicuro un bel pezzo da aggiungere al mio poema epico ma sarà una torneficina calcolate questo i signori dei draghi 500 anni fa guerrieri non al nostro pari tennero parzialmente testa a due titani ora ci siamo noi e il titano è uno solo in più se riuscissimo a togliergli alzo lo sguardo verso il cielo la stella che ha catturato credo che in qualche modo potrebbe interferire con lui non vedo molte altre alternative lo sto proponendo perché inseguirlo è impossibile raggiungerlo improbabile non possiamo stargli dietro dobbiamo anticiparlo e dalla mia ridotta capacità di astrazione in quanto addestrato a fare una sola cosa vorrei essere nelle condizioni di poterlo fare al meglio tu dici anticiparlo ma in realtà puoi aspettare proprio il giorno che lui prepara è organizzata a 500 anni e noi avremo due giorni per prepararci però enormi rischi per la nostra incolumità scarse possibilità di successo a me suona come una sfida decisamente epica sì ma adesso ha un esercito con lui per cui abbiamo pure abbiamo un esercito anche noi maetros quindi dovremmo aspettare che le sue navi arrivano a maetros e noi dovremmo farci trovare lì pronti con l'esercito di maetros il colosso e a quel punto potremmo avere un combattimento equilibrato contro saedon non credo sarà equilibrato ma è quello che ho appena proposto ti ho detto che è impossibile intervenire prima non c'è la possibilità o meglio è estremamente improbabile riuscirci se invece andassimo a maetros subito avremmo del tempo per lo meno per allertare la popolazione approntare un minimo di difesa e magari riuscire a convincere quell'idiota del re a utilizzare il colosso il re è già convinto non sono sicuro le mie parole non mi sono piaciute ma non è tuttanto stupido quanto sembra ricordiamoci che se ciò che ho pensato è vero ossia che ha un regalo di Sidon potrebbe non essere totalmente dalla nostra parte anzi suggerirà la società se gli avesse fatto un'offerta come quella che ha fatto noi Acastus l'avrebbe accettata ad occhi chiusi e molto probabilmente si schiererà contro di noi perché se la città muore lui può costruirne un'altra d'altronde sarà il signore dei mortali ricordate quell'uomo ha un'ambizione che è al limite della pazzia dubito che Sidon gli possa aver offerto qualcosa di così grande a un pusillanime come questo gli ha già offerto un drago è un inizio non sono sicuro di questo io sono abbastanza convinto due draghi d'argento il drago di Icarus non è simile a Nefele nefele allora simile sì nel senso che è un drago d'argento ok ma non sembra una balmitria tu riesci a riconoscere le differenze facciali di un drago io non sarei capace io sono capace non credo non credo tu sia capace sei un umano allora se abbiamo visto Nefele abbiamo capito che assomigliava a balmitria e non abbiamo avuto la stessa impressione no ma è una differenza Nefele è un clone esatto clone non è un figlio è identica i figli possono essere diversi anche perché Nefele si è accoppiata con draghi di altre linee di sangue di un altro metallo quindi mischi i tratti facciali però il fatto che sia Icarus che Argus non mi ricordo come si chiamava vabbè quello di Gaius Argin sono due draghi d'argento e contando che i draghi d'argento sono estinti non se ne è mai avuto notizia a me appaiono delle casualità un po' troppo la tua era bloccata con te è un altro discorso a me appaiono delle casualità troppo non casuali aveva accanto alla prigione di Nefele abbiamo trovato un nido con delle uova un uovo ce l'abbiamo ancora anche noi abbiamo delle uova che abbiamo trovato e che abbiamo ancora nessuna d'argento noi ne abbiamo trovati altri prima nell'avventura non stiamo parlando di quelle di Nefele stiamo parlando di quelle di Nefele mai nessuno d'argento però chiedere a Valus come si ha trovato il drago forse ne lo sa ricordatevi anche una cosa tutte le volte che noi ci prodigavamo per muoverci contro Sidon chi era che cercava di buttare acqua contro di noi ricordatevi lui cercava di prendersi il merito non di sminuiva il nostro e ricordati ricordati anche chi voleva far sacrificare la figlia di Pythor in onore a Sidon Gaius Gaius cosa c'entra Gaius è il braccio è il braccio destro di Acastus non era il braccio destro di Acastus lui era la era il capo delle truppe di Sidon non era mai stato il braccio destro lui no era era sempre a Palazzo scusate l'avete incontrato a Palazzo ma a Palazzo lui era cioè l'idea è che aveva allora la scena era questa c'era la faccia incazzata di Sidon cioè c'era Sidon incazzato quindi aveva radunato a Palazzo consiglieri per dire come la come la risolviamo sta faccenda fra la gente che aveva convocato a Palazzo c'era Gaius ok che era il rappresentante ma sommo del culto del culto di Sidon ok no comunque non cambia la cosa Gaius quasi di sicuro ha ricevuto il drago da Sidon questo è quasi palese ma sono convinto che anche il drago di Acastus tra l'altro fatto crescere in maniera innaturale sia un regalo di Sidon io non sono convinto che Acastus sarà dalla nostra parte e preferisco essere smentito e avere qualcosa di positivo piuttosto di fidarmi e ricevere una pugnalata nella schiena andremo a Maitros vedremo come si è ammesso abbiamo ancora che cosa da fare qua una cosa da fare due attirare la stella d'argento fuori dalla dal mare delle stelle e se esiste un modo distruggere la stella là sopra andiamo all'ascensore perché all'ascensore c'è ancora il planetario da controllare che cosa fa vabbè guardiamo premiamo a capire come funziona il planetario allora provo a giocare col planetario giocavo col planetario mentre loro giocavano col telescopio sei secco adesso bravo non si gioca col proprio planetario allora ma perché adesso qualcuno non guarda nel telescopio pensando a reacastus do un'occhiata io visto che ho tanto astio per acastus acastus ok per acastus non tiro neanche perché non è un dio allora vedi acastus acastus sta passeggiando molto nervosamente avanti indietro nella sala del palazzo finchè gli altri fanno cose tengo d'occhio finchè non dobbiamo andarsene io te lo d'occhio acastus ok poi se escono robe interessanti te lo dico te lo dico però lui al momento è proprio al presente uno mani intrecciate dietro inizia ad andare avanti si tocca le lab cioè è nervoso un'idea andros perché non tu hai sempre quella possibilità di parlare con valdus perché non gli dici di dire a reacastus delle flotte che si donna è stato sconfitto e che ora è in rotta verso maitros e poi vediamo la sua reazione ci darà la colpa per aver scatenato sidon sulla città da scusate ho pensato ad alta voce tanto se non lo fermiamo poco importerà cosa pensano a maitros corradin mi fai un arcano cortesemente l'ho già usato se mi ricordo male le cose per valdus no oggi mi cade un pianeta in testa allora no vabbè comunque un 14 sei abbastanza convinto che rappresenti un moto dei pianeti più vicini quelli al mondo di Tilea che a volte le hai visti sorgere e tramontare vicini alla linea dell'orizzonte però altro non ne deduci qua sopra andiamo a prendere la stella tanto il ruolo di follow è tenere la fiaccola abbiamo detto sì abbiamo detto che la conoscenza del mondo per noi è normale che esistano altri pianeti allora no mi dovresti anche tu tirare o un natura o un arcano normale no cioè tipo sto pensando Telperion non è la più pallida idea di cosa sia questo no la terra è piatta esatto è chiaramente piatta eccolo qua no anche tu Stavros lo sai che i moti celesti sono dati da altre sfere nel cielo che si muovono e il Tilea stessa si muove intorno al sole blasfemia blasfemia cioè proprio eresia exterminatus exterminatus allora cioè molti circoli druidici sono spariti per questo motivo sappilo perché sono stati l'inquisizione non perdona assolutamente sì il dio imperatore nessuno ha sofferto lo xeno allora no lo sai e sai un'altra noti un'altra cosa questo meccanismo è quasi un meccanismo legato allo scorrere del tempo faccio che ringiovenisci per me staremmo grande quando vorrei in giovani cinquantina d'anni ma dai 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 basta ma fino adesso nessuno li ha morsi giusto a parte no cioè ci avete anche perché no io ci ho giocato io li muovevo non riesce a forzare il movimento non si muovono cioè si muovono ma per loro volontà secondo le loro meccanismi logiche ci sembrano degli ingranaggi complessi e non appare che la vostra cioè non è che spostandolo però gli anelli attorno a Saturno erano mobili infatti io ho perso l'iniziativa nel combattimento perché stavo facendo girare gli anelli attorno a Saturno tipo lotellina quindi loro non si sono mai fermati anche durante il combattimento hanno continuato il loro movimento molto piccolo cioè lento come movimento però non è non è che ruotano cioè una roba tipo come era quello lì della macchina del tempo il film come era era la macchina del tempo forse proprio quello che ruotava intorno oppure Star non Stargate Battlestar Galactica no no quello dove costruivano la macchina pensata dagli alieni contact no neanche contact quello è un altro vabbè adesso non mi viene in mente quello lì con Gwyneth Paltrow no si forse era con lei ti ha detto il primo nome femminile a caso che mi è venuto in mente no non so se era Gwyneth Paltrow sono molto molto dislessico con i volti io non sono fisiognomico per un cazzo allora cosa ne pensate andiamo a recuperare la stella finiamo il giro e ce ne andiamo finirà per consumare il pavimento io continuo a fissare quei pianeti vedo qualcosa nel come dire la struttura che gli tiene che in qualche modo mi fa vedere che c'è un segno legato tipo a un allineamento dei pianeti a qualcosa per cui c'è un momento in cui questi pianeti come dire una posizione zero per capirci che in qualche modo è segnata si capisce che in qualche modo possa fammi un'investigation qua sopra però quasi quasi lo consigliavo a 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 come se in qualche modo questi pianeti stiano tutti viaggiando e camminando verso una posizione in cui succederà cosa. Tu che hai molta più esperienza di me e gli do anche una pacca sulle spalle dandogli la mia benedizione. Che ne dici se tu puoi in qualche modo controllare meglio di me? Lo sai che io quando parliamo di cose tecnologiche sono proprio una franga. Ma devo calcolare la velocità di ogni pianeta e dirti quando sono tutti allo stesso punto? O se trovi anche qualche segno o momento all'interno di questo meccanismo in cui in qualche modo questo meccanismo si possa annullare o si possa zerare? La chiave di carica? Eh fammi dare o no. Non mi è chiara nemmeno a me la domanda. Cosa intendi con si può annullare? Cioè portare a posizione zero lo capisco. Annullare non lo capisco. Lo stiamo perdendo nei reami del tempo, dello spazio del tempo. Se lo mettiamo in pausa il patto non scade. Fami sto investigation con il D4 extra. E' arrivato a D4. Eh no. Non siamo fortunati con te lo scopo. 15 comunque. 15 allora. Due cose riesci a determinare. Sì. Prima o poi qua anche più di una posizione in cui svariate cose si allineano, più cose si allineano. Non ne vedi nei prossimi tre giorni. Cioè non è nei prossimi tre giorni che avviene questo allineamento qua. Non mi sembrano esserci segni. Ah e l'altra cosa di investigation che vedi l'unica vedi che ci sono alla base della struttura centrale molti ingranaggi che controllano poi il movimento di tutto quanto. Che bucano che finiscono nel piano di Meccanus o non lo so tira un dodecaedrone un dodecaedrone Io che l'ultimo mese l'ho passato a osservare le stelle per sincronizzare l'anticiclo l'anticiclo e che comunque ho passato da un marinaio. Posso fare un survival per capire quale di questi potrebbe essere una stella o un pianeta che abbiamo che ha utilizzato o che si utilizza per trovare una posizione Vai sì più o meno ho capito allora la risposta è sì nessuno di questi nel senso che o meglio sì ne identifichi ma capisci perché è uno di quelli che di solito non si usano perché sono quelle stelle che spesso vedi che si spostano di giorno in giorno quindi non vengono sono quelle che dicono guarda c'è l'influenza degli altri sono più robe da buona sorte dei marinai più che usate nell'orientamento perché nell'orientamento queste stelle fisse non sono anche perché in greco planetes vuol dire erranti vanno in giro per i cazzi ok e soprattutto quella grossa è il sole non penso una cosa allora molti hanno tentato di orientarsi con il sole nessuno è tornato a raccontarci che cosa ha visto non riusciva più bene a descriverlo dopo forse è riuscito a orientarsi una volta da lì alla volta successiva non ha visto più un cazzo alcuni dicono perché ha osservato la verità però altri dicono che era un coglione che ha fissato il sole troppo a lungo sono andiamo andiamo a recuperare questa stella sarà anche lì da capire come funziona questo mare mistico di Sudè sempre usiamo la telecinese di Terperion e accendiamo la torcia no la torcia è già accesa la sta usando Solon per stava facendo la Tedoforo abbiamo stabilito che tanto non serviva niente da quando è rimasto ferito non può più stare in prima linea perché ormai è lì è lì è lì Solon è fragilino il ragazzo allora quindi volevate andare con la torcia vogliamo provare visto che ci hanno detto che serve ad attirare la stella d'argento prendo la intanto guardiamo il mare di stelle com'è cos'è intanto cos'è sto mare di stelle che allora questo ne ho messo una musica da siren scape è bellissimo e c'è anche questo rumore di acqua che si muove allora acqua e stelle questa stanza è pervasa da luce soffusa e da un placido silenzio la luce sgorga da una pozza nel pavimento colma di uno strano liquido argente perfettamente immobile che luccica nel riflesso di infinite stelle è come guardare l'intero cosmo da una finestra stavros per te curiosamente non è una sensazione nuova ti sembra di aver già visto come quando volavo nel mare degli inferi come quando volavi nel cielo del mare degli inferi solo che lì sopra era sopra di te qui sopra sembra una placida pozza d'acqua un bel tepidario dico agli altri la mia sensazione come se quindi qui stiamo in questa sorta di spazio tra i mondi anche se però non riesco a capire come posso essere così rimpiccionito e miniaturizzato all'interno di questa stanza visto che in qualche modo quando io mi di bravo sembrava immenso queste sono cose queste sono cose che poi ti lascio spiegare che tu le sai queste sono cose che esulano completamente da tutto ciò che riesco a pensare e a concepire se fosse una sorta di connessione con altri mondi attraverso questa materia solo che è incredibile il fatto che qui sia tutto così racchiuso in una stanza cosa corre corre e tu aspetti di questo un passaggio per gli altri mondi in qualche modo Sidona e Luteria ce l'avevano perché anche i trofei di Luteria venivano da altri mondi sembra sembra che si vantassero comunque di imprese compiute al di fuori di Tilea quindi loro probabilmente un modo per viaggiare l'hanno avuto ricordiamoci anche che ha intenzione di Sinon di conquistare altri mondi non solo questo appunto quindi se questo anche è lo scherzo di tutto il paradiso compresso al piano di sotto comunque è un'impresa magica riguardante la realtà e le dimensioni se poi questo sia il portale vero e proprio quel mare di stelle che hai visto tu Stavros sia il modo che usano per viaggiare te lo posso dire solo vivendo o con un tiro o chiedendo la sigla cosa ti serve master arcana arcana qua però voglio che mi ripeti i dettagli però scusami eh cosa vuoi Stavros chiede se questo è il modo che hanno i titani per viaggiare tra i mondi e io ti chiedo allora se quello che chiede è vero e se questo è un portale che porta allo spazio che c'è in mezzo ai mondi oppure è proprio qui lo spazio che c'è in mezzo ai mondi sarà chiuso all'interno di quella forza in qualche modo quel tavolo dove lui si è trasportato in qualche modo è una sorta di portale dimensionale per Tilea mentre invece questo è qualcosa che gli serve per andare oltre Tilea adesso te lo saprò dire allora due cose sì e no ok nel senso che una cosa sai è che probabilmente i i titani o comunque sai che esistono scusate che ho messo l'animazione intanto della pozza d'acqua così ancora più trippi esistono degli incantesimi molto potenti che consentono si dice di viaggiare fra mondi detto questo quindi potrebbe potrebbe si donna anche avere accesso a questo tipo di conoscenze è possibile non lo sai si tratta pur sempre di un titano che è sulla sutilea da non dico da sempre ma da quando da ben prima dell'arrivo degli umani su queste terre l'idea che ti fai è che no questo però sia comunque un portale cioè non contenga tutto in esso cioè non è è un portale è una finestra una finestra è una finestra è una finestra però collegata al mezzo che c'è fra i mondi ok non ha un mondo non ha un mondo mentre quella finestra sotto quella che ha appena verso un paradiso era come dire è settato su un mondo questo è è aperto è l'accesso al passaggio tra i mondi il piano che permette di andare il piano astrale è quello che sta fra i mondi quello che sta fra i mondi e dovrebbe essere il piano astrale che è quello appunto che sta tra i mondi sì il quale Sidon probabilmente è in grado di navigare in qualche modo beh anche in realtà da come te lo aveva descritto Stavros anche Stavros c'era stato in quel luogo lì sì più con cognizione nel senso che Stavros è tornato indietro non ha visto altri posti in cui andare corretto corretto servirebbe una mappa come per viaggiare su Tilea allora cosa serve lì sopra non ne hai esperienza umana qua sopra mappa sì 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 è un mondo di cui sai comunque niente fondamentalmente si dice che si è questo è il paragone esatto è proprio corretto quello di definirlo mare astrale come se le isole che voi visitate sono i mondi e questo invece è aperto sul mare che c'è in mezzo fra le isole quindi poi da qua puoi arrivare a visitare le varie isole sì però le devi trovare però di sicuro se è una roba che ti porta un'isola direttamente a quell'isola ti porta non è che ti conduce al mare aperto ok quindi per certi versi più infido meno prevedibile ma con più ma con infinite più possibilità questo è quindi probabilmente dalla descrizione che ci ha fatto questa stella d'argento è nascosta in questo spazio allora la stella d'argento era quella che era sopra ok la stella rossa la stella rossa ok l'ho detto di attirare la stella morente in realtà Colon lascia la la torcia la afferro con la mia telecinesi ok provo ad avvicinare la torcia al mare astrale allora in realtà vedi questa luce che si riflette su questa pozza d'acqua come quando di notte illumini una con una torcia vai a illuminare il mare la lascio passare un po' sopra il mare come per attirare i pesci con la luce e vedo se ne esce qualcosa prossimo step è entrarci ma vorrei evitare allora fammi un perception cortesemente c'è c'è lo io sarpeccio c'ho l'elmo addosso ok no non ti sembra che avvenga nulla qua sopra come dicevo questo è un portale la distanza effettiva cioè dall'altra parte potrebbe non esserci in questo momento una finestra aperta provo a mettere un dito dentro l'acqua ok non hai la mano magica non voglio spegnere la cosa provo a mettere un dito nell'acqua perché se la metti di là la distanza la scena la scena che vedi è disturbante perché da un lato ti sembra di non percepire acqua sul sul dito ovviamente mi tolgo il guanto d'arme non sei non hai una sensazione di acqua ma hai come sembra quasi che sia avviluppi leggermente come per effetto di tensione superficiale cioè ti sia tensione idrostatica ti sia appiccichi al dito provo a togliere il dito e fa un po' un effetto però non è bagnato non è bagnato come te lo dico come se avessi toccato e non fatelo del mercurio si no fa male facciamo del gallio ecco che allora con la teoria cinesi inizio ad abbassare la torcia fino a farla entrare nel mare ok sembra ok sembra entrare piano inizio aspetta piano scrivi bene inizio a farla entrare dal manico e vedo se vedo il manico quando entra nell'acqua no non lo vedi non lo vedi e allora faccio così la ritiro fuori la giro sotto sopra e la faccio scendere fino a tenere fuori parte del manico in maniera tale da mantenere il controllo ok se c'è qualcosa là dentro magari la attira ok allora effettivamente sembra entrare cioè entra la poccio la poccio andros tu hai una sensazione leggerissima di travedere dei controvagliori sotto come se per un attimo vedessi il luccichio di un pesce riflesso dentro nell'acqua di notte fugace è difficile da vedere se non che passa un po' il tempo sembra un po' immobile ma tu andros e poi se non ricordo male stavros avete una vaga sensazione di vedere un rossastro iniziare ad apparire in questo specchio d'acqua questo rossastro via via all'inizio è impercettibile se non via via diventa sempre più intenso a me se nessuno dice nulla io non lo sto notando sto arrivando sto arrivando inizio a estrarre pian piano la torcia e ad avvicinarla verso di me verso il bordo della piscina allora ok non è così immediata non è istantaneo pluf cioè una roba così però man mano iniziate a vedere come se la pozza d'acqua si deformasse come qualcosa come quando un capodoglio una balena sta per rompere la superficie dell'acqua del mare la vedete prima smossa leggermente increspata agitato sto pescando sì solo che la cosa che vedete via via sembra grande molto grande e fino a che vedete uscire questa all'inizio sembra impossibilmente gigante questa sfera cioè come posso spiegare il raggio per cui si solleva l'acqua sembrerebbe di una roba immensa ma non appena rompe la superficie di questa pozza vedete che esce una grossissima sfera e per grossissima sfera intendo dire vi occupa una roba di sto genere qua ma più piccola di quello ma più piccola di quello che sembrava suggerire e quello che state osservando è sembrerebbe una piccola stella rossastra di una luce rosso molto tenue ogni tanto come la vedete un po' interrompere il suo bagliore rossastro dà molto la sensazione di una torcia flebile provo a spostare verso destra la torcia provo a vedere se la stella la segue la stella sembra seguirla vedete che la stella portare a casa mi ha seguito fino qua portarla a casa magari potremmo farle mangiare la stella grossa anche quella è un'alternativa dobbiamo salire sul tetto quindi prima non sarebbe meglio accendere un'altra torcia e conservare comunque una fia di quella se poi la distruggesse non lo so ma se la distruggesse forse poi rimarremo senza un'armacchina non lo so però l'idea di fare questa cosa a Sidon non so perché ma mi dà gusto no no ma sono d'accordo solo riuscire a conservare il controllo di quella fiamma con una forza ci garanti eventualmente ti si sente a tratti eh invita di continuare a dovremmo più controllarla come? mi sentite? si 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 sentiva un po' a tratti eh stavo semplicemente dicendo che se noi portiamo la la stella lì sulla stella gigante la stella del tento e poi dovesse tutto implodere non avremmo più la possibilità di controllare questa stella o di avere la possibilità di riuscire ancora a fare qualcosa ma se implode vuol dire che muore probabilmente muoiono entrambe non sappiamo neanche a cosa serve questa stella perché sidon la tenesse il fratello di sidon diceva che ci teneva parecchio ma per quale motivo magari è una fonte di potere divino ma io puoi ripetere la frase che ci aveva detto il si voilà ti ho messo una roba più carica eh mi piace allora ve la ripeto nella precisione prendete la fiamma dalla stella d'argento e attirate il suo amore dimenticato e morente lontano dal mare celestiale questo era quello che gli avevano detto perché ciò ricordo che per questa stella morente sidon avesse molto affetto o comunque ci tenesse perché così te l'aveva te l'aveva detto ah ecco era stato detto sì in realtà noi avremmo già dimpiuto quello che aveva detto il fratello di sidon di sidon effettivamente non ci ha detto che cosa farne dopo no però l'amore l'amore di sidon non era sua sorella mi ero segnato è che allora di portare via la fiamma dal mare che è l'ultima cosa cui sidon è l'unica cosa cui sidon tiene sidon studia una gemella morente nel mare astrale si raggiunge fino alle sale del trono si segue se la tiriamo con la fiamma della sorella non morente quindi non ci ho capito niente la fiamma del mare la fiamma che intende è quella che è in cima alla torre ed è l'ultima cosa cui sidon tiene no quella morente o quella nella torre no quella nella torre perché sidon studia una gemella morente nel mare astrale questa è la gemella morente nel mare astrale quindi può essere che quella sul tetto sia una fonte di potere o comunque qualcosa qui tiene e lui ne voleva una gemella cosa è successo? ok non lo so prima o dopo sbrediamoci andiamo verso Andros Stavros secondo voi è più piccola esatto avanti andiamo verso andiamo verso il 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 tetto e scale no scale scale si sale tanto vogliamo e la scara galleggia quindi anche dalla botola della sensora si potremmo fare tutti e due dai facciamo botola che è più vicina ogni istante che passa diventa sempre più piccola io chiedo a Stavros di lanciare un una palla di fuoco ma una fiammata verso la stella d'accordo allora dalle mie mani un produs frame va verso la fiamma verso questa stella voi lanciate incantesimi contro delle cose instabili che non sappiamo cosa sono con una leggerezza di quelle antarcano sono io ok cioè si però va detto cioè è qua è comune è una delle idee più stupide che io abbia mai sentito ve lo dico Andros che dice che gli dai fuoco a quello Stavros neanche glielo devi chiedere cioè dice a fratello a fratello è una delle cose più stupide anche a un orfanatrofio prima di domandarsi delle conseguenze ribadisco ho detto se vedo che scende molto velocemente gli chiedo di farlo questo ho detto sta scendendo perché tu hai la sensazione che stia diminuendo ho capito ho dieci in saggezza è umano quello che ti lo direi è che sei stavros mi tiri un dado percentile ecco abbiamo capito cosa hai detto l'abbiamo capito Marcello inutile che tenti di convincere siamo in da stupida no no mi tiri un dado percentile critico ecco no no va bene vedi che avidamente consuma la tua la tua siamma non sembra sortire effetto assoluto vabbè possiamo andare su intanto si non ho detto di lanciarla adesso non ho capito Andros vabbè Marcello parlate di qualcosa relativo alla sala del trono no non ho detto niente sul trono no ha detto che la stanza ha detto che la stanza era vicino alla sala del trono quella del mare è che ti eri perso l'ultimo pezzettino laggando e andiamo all'ascensore e voliamo di sopra ascensore o scale andiamo alle scale andiamo alle scale perché gli altri mica tutti volano io vabbè non avrei problemi a salire con ma il follow nel blue book posso portarli sempre io con la mia c'è un piano da fare ragazzi non è che mi affare chissà quanti chilometri e Andros ha ragione potrebbe non esserci il tempo di fare avanti e indietro corriamo attraverso le stanze adesso lo notate tutti è più piccola andiamo allora muoviamoci forse ok man mano che vi allontanate dal mare delle stelle avete la sensazione che questa sfera infuocata diventi via via più instabile più fa fatica quasi quasi non tiene più una forma sferica precisa oddio correte a capicollo diciamo abbastanza passo celere per quanto vi segua la stella su per le scale e arrivate in prossimità della gemella della gemella una volta che arrivate in prossimità della gemella sembra non seguire più la vostra torcia ma punta direttamente scusatemi non dovevo toccare ti sentiamo non segue più le vostre tracce le vostre torce ma mettiamoci dentro galleggia via abbastanza acceleramente sembra quasi accelerando galleggia verso la stella l'occhio la palla infuocata che c'è davanti a voi che vi ricordo fa parecchio caldo la sopra non appena arriva a toccarla è come se una bolla di sapone scoppiasse istantaneamente perde consistenza e esplode tutti voi venite ah sono sicuro venite colpiti da questa onda d'urto è come se improvvisamente vi avessero vi fossero corsi incontro o vi avessero avvicinato la faccia a un falò durante una festa a che festa partecipavi che ti avvicinavano la faccia al falò era proprio burning man andavano chiaramente al burning man qua sopra e aspettate subito dopo ma fate fatica a vederlo l'intera esplosione però viene risucchiata dalla stella più grande tutti voi che siete stati investiti da questa cosa qua tutti quindi vi prendete preveggenza foresight foresight attivo su tutti quanti detto detto questo cazzo per il fight sarebbe stato utilissimo una cosa per voi altamente preoccupante perché adesso ve lo metto qua dov'è qua praxis togliamo perché fa la stessa cosa anche la stella grande allora è un problema voilà perché quello che vedete è questo le come posso dire le pareti di pietra quell'architrave che sembra che è sembra stare intorno alla grossa stella improvvisamente sentite un crack e vedete che si apre si è aperta una crepa gigantesca non fate in tempo a dire oh mer oh mer e vedete vedete che vengono i pezzi degli architravi di sostegno eiettati lontano dalla stella e si fermano a poco a distanza dopo dopodiché iniziano a vorticare intorno a questa stella qua e non potete fare a meno di osservare che le crepe continuano ad aprirsi e iniziano ad arrivare sotto i vostri piedi benissimo cosa fate scappiamo più veloci del vento io mi trasformo in un'aquila dice thank you avete un modo bellissimo tu con voi cosa fate avete un modo di rendere più piccoli o trasportabili o folon o ok io cast aureen aureen prendi folon si vedi che folon fa si aureen prendi folon ottima idea grande aureen amica mia dobbiamo trovare un modo di far volare bulbug allora trasformo trasformo bulbug in un gattino con polymorph anche questa è bella ok bulbug non si oppone però ti guarda dopo che realizza la bestia in cui l'hai trasformato ti guarda con quegli occhi giudicanti da felino del gatto di stivali del gatto di stivali are you serious esatto mi gioco l'ultimo di quarto e quindi trasformo lui in un gatto ok andolo saltiamo dopo di che mi trasformo in un'aquila gigante e prendo folon e folon normale diciamo lo posso sopportare e con l'altro artiglio porto prendo no prendo io il gatto il gatto lo prendo su io ok allora io prendo solo folon giusto è rimasto sì solo folon anche Nefele Nefele credo che si arrangi quando salto giù volando molto probabilmente mi segue e quello che faccio afferro Bulbug Bulbug scusami salto salto nel vuoto io se dovessi accorgermi che quella come una cretina perché abbiamo detto già che è una cretina cade giù inutile comunque la prendo io nel caso e comunque una volta trasformato prendo folon prendo scusa prendo folon ok vabbè una roba per volta non fate le dichiarazioni del futuro possibile ragioniamo su quello che fate io infatti salto nel vuoto tu salti nel vuoto lanciate allora lanciate un incantesimo trasformi tu trasformi Bulbug in gatto sì ok e aurin pesca folon no folon lo prende l'aquila gigante che è più grande quello è il turno successivo eh il turno successivo ah giusto a turni ok allora io aspetto per chiudo fermi a turni io devo aspettare di prendere Bulbug quindi non posso ancora saltare io ho detto allora primo turno seguite il capitano ho detto cosa dobbiamo fare non capisco cosa hai detto ho detto Stavros no Aurin prendi prendi folon Stavros prendi Bulbug questo ho detto non è così difficile da seguire come cosa a parte che non credo che allora Stavros trasforma Stavros trasforma in un gatto invece di trasformarsi lui in aquila in questo turno ha trasformato in un gatto in Bulbug io ho attivato gli stivali e tu hai attivato gli stivali adesso vediamo ragazzi non sono da attivare gli stivali Marcello si ah no boh va bene non c'è azione da fare effettivamente mi pare non mi ricordo no può volare un tot di minuti al giorno ma non esiste azione preparata quando non sono in combattimento quindi ok va bene quello che vedete è che rapidamente queste crepe sembrano cioè si allargano a velocità devastante vedete rapidamente il pavimento che inizia a perdere consistenza sotto i vostri piedi mi fate cortesemente chi non è ancora volante chi non è ancora volante mi farà un atletico o acrobatica a sua scelta con vantaggio giusto avete tutti vantaggio perché avete foresight a urina pescato è già in volo per ora l'ha pescato allora io volo di base ma quindi deve tirare falun tirare a urina tirare io che sono superato 2-3 allora allora quello che succede è questo no vabbè per a urina non c'è da tirare lì sopra in realtà però per capire una roba allora perché quello che succede è che stavros tu dopo che hai lanciato il tuo incantesimo appoggi uno dei piedi e il tuo piede va giù cioè vedete proprio stavros che cade nel pavimento proprio perché non lo regge più in tutto questo però c'è Bulbug che fa tipo fa e si è già aggrappato tipo e ha piantato tipo gli artigli su Aurin cioè tipo si è aggrappato così sul collo di Aurin ha detto e lo vedete con un pelorito incazzatissimo chi altro è rimasto lì sopra io e Andro sappiamo volare nel senso che cade il coso noi rimaniamo volanti ne fele ne fele ne fele pensando una cosa bisogna recuperare stavros Andros ma adesso vediamo allora immagino che ci saranno metri e metri di caduta voglio dire per ora stai crollando sul pavimento del piano di sotto nella sala del trono nella sala del trono esattamente un attimo solo vuoi tu continuare vai allora dopodiché vedete no ne fele sembra abbastanza osservare quasi con interesse di staccato questa scena di distruzione al che subito dopo i volanti voi siete volanti quindi l'unico mi rimane mi deve fare questo sì Aurin in una prova direi di atletica di forza per acchiappare Fallon Fallon gli hai tirato scusami tiro io per Fallon tiro io per Fallon perché non avevo tirato per Fallon per capire se anche lui mamma mamma che scena però Fallon non è un problema cioè Fallon continua sgambetta così cioè non cade di sotto quindi in realtà riesce a saltare nella direzione in cui Aurin sta iniziando anche lei a prendere a spiccare il volo e Aurin la prende al volo Stavros mi fai cortesemente non è venuto un momento per fare la mia azione adesso sì ma l'attuazione l'hai fatta ci sono adesso arriva il momento dell'attuazione stavo determinando solo che Fallon non era riuscito a trasformare cioè era riuscito a saltare e non cadere neanche lui mi devi fare due cose trasformarti non hai nessun problema cioè se facevi la roba di trasformarti certo mi trasformo in aquila però mi devi fare una prova di concentrazione mi devi fare una prova di concentrazione hai sempre vantaggio hai sempre vantaggio un attimo che stavo attivando gli asset perché hai sempre vantaggio perché avete foresight tutti quanti che si è incasinato tutto ok si è bloccato tutto cazzo no se Bulbuk tornatore è un casino donami advantage costitution un po' brutto da chiedere quanto vuoi giocare l'ispirazione vuoi giocare l'ispirazione perché al momento l'idea è che oh cazzo cioè stai proprio perdendo la tua testa su quello che è il ritiri un dado allora quello che succede è che vedete Stavros esce fuori dal buco in cui era caduto però ha perso la concentrazione per cui in questo momento ha grappato ad Aurin attaccata così al collo c'è Aurin che vola e improvvisamente davanti a te si arrivano stecchiappe giganti di mucca e Aurin che fa oh cazzo fa così e inizia ad andare impicchiata anche lei perché si è trovata improvvisamente con il peso e il baricentro completamente spostato Stavros vola e prendi Bulbug è quello che voglio fare appena il master mi dà la possibilità ok vai 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 allora vai in questo momento cioè la scena è che però vedete che Corradin Aurin e Bulbug stanno andando giù in realtà c'è anche Andro Setelperion noi stiamo volando stanno fermi tipo ah ok abbiamo gli stivali ok il bello è che noi siamo tranquillissimi tipo ah io cerco ovviamente mi lancio all'inseguimento dei decadenti per cercare di afferrarle ok ok io guardo Nefele e le faccio vola con me e salto giù anch'io io lancio ok su Bulbug e gli dico molla bell'idea molto convenzente ok ma cioè gli fai il command quindi no gli faccio levitate lui si sente bloccare a mezz'aria e ottiene Aurin e scendiamo piano ok fammi anche una prova di vabbè di persuasion fammi un persuasion qui sopra molla pure non cadrai minchia porca troia con otto con otto ha fatto ventuno è il suo lavoro è il suo lavoro siamo d'accordo siamo d'accordo e lo fa cioè quando non è di buon umore è convincente di bestia ecco questo qua allora ok lui lo molla e tu anche tu Stavros Stavros vedi che Bulbug rimane sospeso in aria e quindi non hai nessun problema ad afferrarlo perché tra l'altro diventa privo di peso e quindi iniziate quello che a vedere è questa orribile scena Nefele si arrivo ci arrivo ah ok della torre che si sta sgretolando due cose vedi Nefele che assume forma di drago e inizia a galleggiare cioè a volteggiare non in volo statico ma inizia a a tirarsi su se non che ti si volta a guardarti per un attimo con uno sguardo abbastanza intenso sembra quasi recuperare una parvenza di lucità guarda te guarda la stella vedete che osserva i propri artigli e si lancia infiondandosi dentro la stella ma perché è scema è dove torna inizia è cretina è cretina vabbè in tutto questo a me va bene che esploda la stella deve distruggere la torre vedete che improvvisamente dopo che nefele si lancia nella stella i supporti superiori cioè quel rimasuglio di architravi che stava ancora vorticando intorno alla stella la parte superiore completamente iettata e la stella punta verso l'alto allontanandosi a una velocità folle non potete far altro a questo punto a osservare la rovina del simbolo di sidon su chilea vedete innanzitutto una scena stranissima perché la torre crolla e mentre crolla osservate un paesaggio bucolico che è aperto sul cielo ok ci sono squarci di architettura che ancora li tengono lo tengono sospeso come se fossero rimasti solo le pareti della della stanza dei due piani di sotto dei quattro piani di sotto e anche queste qua perdono via via sostanza e vedete sentite questo orribile rumore tipo perché la la scena è che il buco improvvisamente si chiude su se stesso la torre a questo punto in una catena accelerata di eventi crolla e vedete la scena è che per centinaia di metri intorno a voi ci sono questi pezzi della torre che cadono è come baradur quando crolla visto dall'alto quasi non rendete conto della portata però potrebbe essere la scala vi sembrerebbe quella di una di vari una manciata di sassolini lanciati nell'acqua però vi rendete conto che sono macigni di dimensioni titaniche e la torre di Sidon cessa di esistere ma ovviamente sto fuori dal gioco perché sono un'aquila mi domando che cosa sarebbe successo se l'avessimo fatto prima di combattere con Sidon bella domanda adesso accendo una fiaccola vado in giro in stelto con quelle vedo che succede era difficile arrivarci a sta roba ma donna quanto rido sarebbe dovuto passare davanti insomma vicino alla sala di Sidon quindi probabilmente l'avrebbe toccato ma non era in casa quando siamo arrivati signori miei avete guadagnato il dodicesimo livello aspetta aspetta non è finita torniamo alla Ultros il più velocemente possibile dopo di dici voliamo in alto prima e poi scendiamo verso l'Ultros evitiamo che i grifoni ci seguino no vabbè in tutto questo i grifoni non credo che i grifoni ci siano più Marcello i grifoni si sono cioè quando hanno visto questa scena qua i grifoni sono allontanati è esploso tutto magari si arrabbiano e vengono a prendersela con noi ma guarda ma che vengano anche 100 grifoni in contemporanea me li gestisco da solo comunque no in realtà scappano alcuni di quei grifoni sembrano forse non lo sapevi in realtà no non lo avete neanche visto probabilmente avranno portato via prima di tutto i cuccioli però in realtà in tutta questa scena avete visto un qualcosa che esplodeva fondamentalmente bellissimo l'unica cosa vi domandate che effetto abbia avuto su Sidon su Sidon ma che effetto abbia avuto Nefele sulla stella eh bella domanda ma non l'abbiamo vista più poi Nefele no verso sempre come direbbero Gown in a blaze of glory molto probabilmente boh ha pensato che era un modo per morire la sua vita era sofferenza forse sapeva che c'entrava qualcosa con Sidon non lo so torniamo alla Ultros e da lì andiamo diretti a Mitros con l'elmo allora ok subito 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 no no c'è rottità dobbiamo comunque dormire insomma c'è un titano sotto le mocerie che probabilmente è morto potrebbe essere anche sopravvissuto essendo un titano esatto è immune ai danni cioè sì potrebbe ciò che non è magico non lo ferisce è una torre che trolla non so come funzioni ma potrebbe essere anche libero e potrebbe essere imboccato vi dirò al momento quante sono le tonnellate che lo coprono non lo sai quello lì ci sono svariate tonnellate era inchiodato ed era chiuso con delle catene e la torre è nel mare tendenzialmente cioè non è che in realtà va giù va giù molto di più era tipo un pinnacolo dove stava questa torre va giù parecchio va giù parecchio qualcuno ha localizzatità no? locate creature c'è come cose però ma non ce l'ho non ce l'ho preparato ok allora a voi allora andiamo a no a voi cioè però allora non è un no però ti sto descrivendo cosa è successo cioè la cosa è che l'unica roba che vedi che potresti vedere no? c'è un cumulo di macerie sulla parte centrale su cui si basava la torre però tutto intorno il mare va giù a picco ok? quindi una buona parte dei detriti sono sprofondati negli infiniti abissi infiniti no da qualche parte arrivano ma così a occhio nudo la scena che vedi è un cumulo di macerie su quello che è rimasto quasi a formare un'isola di pietra ok? perché la torre emergeva dall'acqua ma i detriti hanno creato questa specie di isoletta rocciosa e il resto in acqua dimmi Marcello è una buona percezione provo a vedere se noto qualche pezzo della forgia il piano della forgia era sopra il titano quindi se vede qualche pezzo della forgia il titano è probabilmente lì sotto allora però me lo fai attivo questo qua not passive eh sì not passive c'hai sempre il vantaggio eh vabbè ce l'ha sempre lui allora in realtà la forgia no non vedi la forgia l'unica cosa che no ti sembra di notare ehm dei movimenti in acqua e forse un paio di quei tritoni che avevate visto dove eravate entrati nelle sala macchine nella sala macchina ha idea che quelli alcuni di loro forse sono sopravvissuti probabilmente perché la prima roba che avranno fatto è buttarsi in acqua ma se io allora posso subito burbug sulla ultros ok allora dopo di chi boni a riposi subito sulla cosa sulla ultros dove cazzo è la ultros ebbè comunque era non molto lontana dalla tutta col cazzo che era lì col cazzo che era lì sì era lì vediamo se vi ricordate che cos'è successo nel frattempo sì ma io da come piovra mi ero portato è arrivato Sidon nel frattempo ed è andata prima di Sidon è andata via una flotta di navi da guerra si saranno nascosti ma comunque l'avevamo già nascosto a noi si saranno allontanati allora mi fate vabbè in realtà potete farmelo tutti quanti qua sopra controlliamo dall'alto dall'alto mi fate un buon perception qua sopra potete anche farlo di gruppo con separati come volete ma tanto vantaggio ce l'avete già quindi separati vi conviene for site è attivo for site è ancora attivo perché un minuto no for site dura otto ore quanto dura otto ore funziona for site no ma for site della della cosa no no la spell la spell perfetto abbiamo fatto un po' di io e andros abbiamo fatto uguale ok allora aspetta che ci manco ancora io vai che probabilmente sono quello che c'ha la percezione migliore e infatti 30 col suo occhio di aquila eh beh col suo occhio di aquila ci sta è così con un'ala stavo guardando una cosa eh ovviamente in questo caso comunque ho la percezione è la mia è di stavros aveva 268 a capine fele porca puttana che cionchi allora guardando se trovi una cosa mi spiace averla persa ma io ho una cosa che non ho capito quando ho detto Flavio all'inizio perché forse mi è sfuggita ma quindi Balmitria era la divinità Maitros quindi che era morta in realtà non morendo per per la città ma facendo questo gioco quindi sì perché diciamo nel mito noi sapevamo che Maitros era morta le leggende l'hanno glorificata l'hanno glorificata in quest'altro modo quindi il fatto di salvare la città che si era sacrificata per salvare la città e invece si è suicidata cioè non era epico suicidarsi comunque era lei era Maitros ok ok facciamo la parola giusta dai o era Balmitria cioè come vuoi dire cioè non si sapeva che Balmitria fosse il allora riesci a ritrovare la l'Ultros che si era se n'era andata verso sud ovest verso sud ovest la la trovi in realtà dovete volare un po' per raggiungerla perché non era così vicina vicina già quando vi aveva lasciato vi aveva lasciato al margine in modo da poter giusto voi intravedere la torre lei poi appena si aveva visto arrivare decine di navi si è cavata cordialmente di culo e ha fatto bene si è cavata cordialmente di culo e fino a raggiungere quasi degli isolotti in lontananza dove potersi riparare arrivate e salite a bordo vedete che ci sono Pythor e Kira estremamente in apprensione per quello che è successo cioè in apprensione perché la prima cosa che vi dicono è che com'è andata cos'è successo abbiamo visto a un certo punto il cielo aprirsi abbiamo visto decine di navi enormi fare sosta sulla sulla torre e andarsene via abbiamo temuto che vi avessero catturati e presi in ostaggio abbiamo preso a calci nel culo Sidon che è scappato alla sua flotta e poi credo che abbiamo fatto abbiamo distrutto la sua torre allora allora Kira è estremamente entusiasta tuo pad Pythor sì credo che Sidon non abbia più una casa al momento io li guardo abbiamo anche trovato questo e gli faccio vedere la pergamena come gli fai vedere la pergamena la riprendo perché ce l'avevo nella bag ok gli faccio vedere io dico abbiamo anche trovato il patto abbiamo anche trovato il patto a Marcello piace rovinare le sorprese anche Kira Kira fa ah e e papà dove sono le mie ali quali ali sono un mezzo drago tuo madre mi pare che fosse forse non ne possono ancora parlare credevo fosse tua madre evidentemente scopri di lei cose che io non so abbiamo trovato il clone di Balmitria alla torre questo tutti e due muti il suo nome era Nefele il Sidon nella sua perversione ha utilizzato ha utilizzato ciò che rimaneva del corpo di Balmitria apro lo zaino tiro fuori con molta grazia il teschio ok in questo vedi in sight ok tiramelo tiramelo anche però ci sarà una roba abbastanza palese in realtà ah ah già no no non 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 leggo l'intenzione ok però quello che vedete è Kira scusa lo posso fare anch'io anche se non posso parlare si si puoi farlo devi prenderti telepathic non ce ne abbiamo parlato tanto ve lo dico ok era sempre con vantaggio ragazzi c'era per 8 ore avete vantaggio su tutto vabbè hai fatto 24 dove cazzo vuoi andare c'è sempre il 30 lei sbianca lei sbianca spider gli vedi fare una cosa che non l'hai mai visto forse mai quasi o raramente fare beve dell'acqua no piange piange cioè avete presente la scena è che non se ne accorge lui stesso di farlo gli cadono delle lacrime mentre ancora anche lui mi dispiace darvi queste emozioni ma Sidon aveva creato una copia di vostra madre la teneva in cattività per farla riprodurre e creare nuovi draghi l'abbiamo liberata ha combattuto con noi e poi ha cercato la libertà era una creatura a cui mancava la scintilla dell'anima la penso allo stesso modo ed è per questo che adesso stiamo per partire per Maitros Sidon è diretto là e io ho ancora un conto in sospeso con lui poiché respira ancora e dopo che avrò finito con lui smetterà di farlo dice questa volta è Kira mi spiace non poter essere più diretta anche se formalmente mi rendo conto che sia quasi sciocco però il vincolo per noi è ancora presente e quindi mi esprimerò per quel che posso dire se quel che avete trovato è quello che dichiarate essere credo che c'è una tomba priva di dei resti la mia intenzione o meglio l'intenzione di tutti è quella di riportare questo teschio alla tomba dove vi sono i dipinti della grande balmitria ma il tempo stringe la prima cosa che faremo sarà tornare a Maitros una volta a Maitros abbiamo ancora almeno due giorni prima che Sidon possa attaccare in quei due giorni ci recheremo i tumuli seppeliremo ciò che rimane della possente balmitria e poi ci prepareremo all'impatto dobbiamo richiamare anche Volkan sì vi voglio vi vorrei tutti al nostro fianco per la battaglia finale quando il patto finirà e riassumerete la vostra vera forma dovrete dar sfogo a quella che chiamano l'ira draconica credo si chiami così c'è una cosa che non so se giocherà a nostro vantaggio con i tempi o altro ma credo dovremmo recarci tutti dovremmo recarci tutti alla necropoli ed essere lì quando il patto scadrà cerchiamo di fare fate quello che dovete fare prima di allora ma in quel momento ma necropoli saremo lontani dalla città abbiamo l'elmo corretto ma c'è qualcosa che forse potrebbe tornare d'aiuto abbiamo l'elmo non è un problema e forse c'è il guardiano della necropoli stesso che potrebbe darci una mano alla fine del patto questo non lo so non so non posso dirvelo non ho idea in realtà ma Telamok non ne ho idea capitano chi guiderà la Ultros fino a casa mi vicino a Marinai a quello che mi ha sempre fatto dal secondo Borgo Nel Tc3 in realtà c'è uno che vi si propone e arriva il vecchietto no no non il vecchietto maledetto la maledetto in realtà fatevi i cazzi vostri voglio cercare un attimo di patos non riesco cioè andate avanti a manetta a mitraglietta no Folon ti si avvicina con un viso molto lungo è un cavallo mezzo cavallo la battuta è facile bro dice bro abbiamo fatto una figata bro abbiamo fatto una figata tuttavia mi sono reso conto di una cosa che non sai volare l'avevo notato sai ma credo che bro tu sia in grado di volare in altri anche modi purtroppo mi sono reso conto che almeno verso la fine della della battaglia sono stato più un peso che un aiuto non dirlo neanche per scherzo no non è che lo dico per scherzo sai che ho promesso di esserti a fianco tuttavia in questo momento per quello che devi fare e mi rode molto dirtelo non credo di essere il tuo bro in questo momento non so se ti tratterrei più di ricordati di aiutarti forse noi siamo bro noi siamo bro anche se non siamo uno a fianco all'altro se noi andiamo avanti io avrei bisogno del più fidato al comando di questa nave di qualcuno stabile sulle sue zampe saggio ma non noioso e di qualcuno che farà di tutto per non finire in acqua visto che non ha gli zoccoli palmati se capitano Andros è d'accordo ecc tuttavia credo che ci servirà la staffa nel battaglia no problem no problem bro mi dà l'ultrus verso ma verso ma non ingaggiare nessuna battaglia con nessuno della rotta gli passo gli passo ebony la spada magica quella di archelander sì dovrei chiederti titansbane nella battaglia a qualcuno di noi potrebbe tornare utile comunque se se l'ultrus arrivasse fuori minaccia ma vicino alle navi nemiche abbiamo qualcosa preso da questa nave nel caso potremmo fare tappa qua e attaccare la flotta da dietro se ne avessimo bisogno molto bene molto bene io prendo titansbane e osservo corradin corradin tu sei stato addestrato come guerriero in quanto signore dei draghi sì sono addestrato un sacco sai usare una spada quella è la punta hai la proficiency in longsword ti suono un penso che il bardo abbia anche meno proficiency del magno no ho appena guardato l'odisseo del dragon lord di proficiency tu sai combattere sì la spada lunga sì sei l'unico tra di noi che è in grado di usarla sì preferisco armi più agili però i movimenti base li so custodiscila forse Talieus aiuterà anche te in battaglia allora in tutto questo vedete che sentite un po' di rumore dalla sottocoperta e vedete uscire un bulbug ancora con un po' di ferite segnate così che porta due casse due barili di birra e sopra e ha in bocca sta tenendo su un delle salsicce che se le sta mangiando così dice stiamo andando giusto stiamo andando vieni questa è mia questa la potete avere 4 bulbug pythor kira ancora un posto abbiamo però non so non credo ci sia qualcuno che voglia venire in realtà qua no potrebbe venire foro non se vuoi però guarda out of game è meglio così è veramente rischio muore ormai le differenze bulbug riesce a starci dietro perché ha una barca di hp e fa un male della madonna foro fa poco male non ha così tanti hp non riesce a tenere il passo sono due sidekick ma uno non riesce a tenere il passo dell'altro eh lo so però è anche per come è schillato bulbug cioè proprio è un ciccione una barca di hp siamo noi sette il mio piano è questo il nostro primo obiettivo è mitros facciamo tutto quello che dobbiamo fare avremo ancora due giorni in prossimità della fine del patto andremo tutti quanti alle necropoli avvertirò dobbiamo avvertire volkan di trovarsi là visto che è il più vicino in linea d'aria volkan sta finendo di forgiare la nuova sella per aurin quindi comunque ci dovremo passare non mi ricordo quanto mancava una già finita o la finisce l'aveva finita anche secondo me andros andros sarete tre persone giusto no una sono otto non dieci otto allora due allora due perché ho contato te nei sette perché siamo noi quattro kira paitor bulbug e aurin e aurin giusto c'è un posto non avevo contato aurin scusa ok di di tutti i marinai c'è qualcuno che so che conosce che li conosce bene tutti gli altri e che può aiutare le famiglie a portarle in salvo a gestirle non ho capito bene la domanda allora il punto è questo io presumo che i marinai sulla ultros siano preoccupati per la famiglia maetros si quindi si e no cioè attenzione si da un punto di vista nel senso che ovviamente si sta preparando una battaglia e il teatro della guerra da quanto state trasmettendo è maetros dall'altro hanno appena visto crollare la cazzo di torre di sidon per mano vostra quindi diciamo che si c'è la preoccupazione ma anche la convinzione di possiamo ferirli possono sanguinare questi titani ce la possiamo fare la sorella l'avete uccisa lui lui l'avete costretto per loro modo di vedere alla fuga quindi si va lì e gli farete il culo ok sì poi conta che metà di questi marinai sono elfi le famiglie loro le vendute come schiavi ormai esatto la roba la roba è che la preoccupazione di fondo un po' ovviamente certo che c'è perché chiunque abbia un parente che sia in maetros sì preferirebbe che comunque restassero solo i combattenti dall'altro c'è un po' di invasamento per sapere di essere nell'equipaggio degli eroi ok quindi decidi tu come lo vuoi li vuoi fare se vuoi portarli per dire portare notizie alla alle famiglie o quant'altro assolutamente sì ne puoi portare un paio no uno posso portarne uno sì 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 ne puoi prendere uno che è di maetros maetros uno lo prendo prendiamo anche lui bene posso tornare a quello che stavo dicendo che era abbastanza il primo stop sarà maetros dopodiché in prossimità della scadenza del patto noi quattro più aurin bulbug rimarrà a maetros perché avremo vitor vallus e kira e volkan e volkan quindi infatti sono arrivato a 9 quindi bulbug ci aspetterà a maetros bulbug sarei la nostra prima linea di difesa se dovessero arrivare prima del nostro ritorno come è che avevate messo i c'erano i culi di andros che stavate formando giusto i culi di andros puoi guidare i manzi scusami hai ragione i manzi di andros vitellini diciamo francamente non è che rispetto a te sono manzetti eh sì ma che manzetti quelli là ancora ciucciano il latte secondo me allora comunque sì diciamo che posso dargli qualche dritto o due insomma sarai fondamentale noi cercheremo di tornare il primo possibile ma tu sarai veramente fondamentale a maetros in quel momento ok va bene poca pressione maetros aveva due colossi vedi che bulbug la pressione non sa cosa sia è proprio frega cazzo maetros aveva due colossi uno è stato distrutto col kraken in questi due giorni che saremo a maetros andros conradin dovrete convincere rea castus io non ci parlerò rischierei di mettergli le mani addosso quando siete pronti andiamo scusate la fretta ma io ho un po' di ansia a maetros e mia madre tra l'altro sentite una certa pesantezza negli arti eh ragazzi cioè perché improvvisamente dopo che sentite un po' l'adrenalina che scende e vi rendete conto che mazzate ne avete date ma anche prese fino ad ora cioè sono ore ore e ore che state andando avanti tirando fuori ogni vostra energia residua eh sì ok prima di andare vai ricopriamo le gemme che ci serviranno che serviranno a Stavros ok le recuperate le gemme dal dall'ultros gli altri tesori possono restare ma le gemme serviranno e vi stavate portando anche quello che avevate nella torre perché avevate il teschio le robe le robe lì sì tutti gli oggetti magici che li identificheremo tanto a maetros in due giorni qualche ora di tempo per fare l'identificazione allora aspetta che io possiamo fare già il livello vuoi che aspettiamo sì in realtà ci sta nel momento in cui sarebbe appena riposate però riposerete probabilmente a maetros tecnicamente però se vuoi meccanicamente lo puoi già fare perché non credo solo per raggiungerlo e vedere che ci sia tutto esatto perché vi portate avanti così non dovete farlo dopo in fretta e furia detto questo cosa succede perché vorrei siamo un po' non ancora proprio in chiusura ma ci sono due tre robe che secondo me preferirei farle adesso o continua a inquadrarmi là dietro non ho capito che cazzo di teschio vede là dietro ci sarà un fantasma quello di balmitria ci sarà un fantasma qua in alto sopra la mia testa e la telecamera inquadra quello allora maetros dove vi teletrasportate a maetros allora l'oggetto di maetros l'avevo preso io io ne ho preso un altro però da un posto da un posto che ho potuto visitare quindi non so se avevamo delle stanze non mi ricordo se era nel selciato davanti al al puttanaio di tuo fratello io avevo preso quello mi pare di sì no e versi è rimasta a maetros sì quindi avrà una stanza un posto dove stare sì non era a palazzo sì a palazzo lei è decisamente a palazzo o meglio ancora al tempio dei cinque dèi quindi ho preso qualcosa mi sono messo d'accordo con lei ho preso qualcosa da una stanza di servizio per raggiungerla così posso potrò raggiungerti il prima possibile allora mi concentro sull'oggetto c'è sempre la crown of laurels che hai incastonata nell'elmo volendo quella ci porta direttamente a palazzo in che senso perché perché veniva da lì era la corona di alloro quella metallica che ci aveva dato come premio delle olimpiadi sì no ormai non vale più però la state portando in giro da allora quindi non vale più come oggetto statico preso da lì e poi in realtà non è un oggetto statico la corona d'alloro perché viene e viene forgiata per i per i giochi una cosa volevo solo aspettate me la segno qua no no non questo non questo no voglio la dm map ma uguale ok mi metto questa che ha anche le iconcine di quelle che sono i le varie zone di mitros allora che così poi vi vi identificate vi ricordate anche voi meglio di dove sono le le zone allora ritornavate quindi al puttanaro al no andavamo al tempio dei cinque dei al tempio dei cinque dei allora al tempio dei cinque dei in realtà trovate ovviamente c'è l'amore tuo con Radin che appena sente che sei tornato si getta fra le tue braccia a capofitto ma è presente anche Vallus è presente anche Vallus bene e quando vi vede arrivare vede che arrivate anche con Kira e Pythor che è un attimo preoccupata però la aggiornate sulla situazione e anche lei è estremamente sorpresa colpita turbata emozionata si offre volendo direttamente lei identificarvi gli oggetti grazie perché è la dea della saggezza ok che non è la dea dell'intelligenza però secondo me un paio di identifai ancora li può castare allora cosa volete sapere in ordine c'era un rubino scudo la spada c'era un rubino gigantesco ok volete lo scudo lo scudo dai ok è uno spell guard shield che bomba allora questo oggetto sostanzialmente mentre tiene in mano questo scudo hai vantaggio hai tiri salvezza su contro incantesimi e altri effetti magici e gli attacchi con incantesimi hanno svantaggio contro di te inoltre è uno scudo più due vabbè questo no scusami questo è uguale scusami non è uno scudo più due non è uno scudo più due ok è uno scudo normale da quell'altro punto è di legno no è di metallo questo è di metallo a parte che a Savros non serve no condividi l'immagine per favore aspetta che dovevo vederlo perché è sempre bellissima dove cavolo è da Marro è da Bardo però ah aspettate perché l'hanno aspettate perché l'hanno preso dal l'hanno messo nell'avventura e nell'avventura hanno tolto l'immagine vabbè lo devo prendere dal dungeon master dal dungeon master dovrei avere infatti eccola qua per me non ha questi simboli per me non ha questi simboli se fai quel livello se fai quel livello nell'altra classe prendi competenza con gli scudi pensaci però tu che cosa hai come scudo scusami io ho uno scudo più uno eh questo non sarebbe uno scudo più non ho più slot disponibili per gli attunament però non è male è più no è fortissimo vantaggio contro tutti gli spazi devo volare devo volare ho bisogno della mia armatura e la spada anche marcello tu potresti prenderlo dello scudo del leone al posto dello scudo del leone è più forte questo dello scudo del leone adesso anche perché adesso cosa ti dà le rini vantaggio contro gli incantesimi sì per tre round questo sempre cinque round cinque questo sempre questo sempre e aspetta non solo gli incantesimi anche gli incantesimi per colpire hanno svantaggio nello colpirti è molto più forte di quello del leone mi dà vantaggio a percezione eh quello è vero a vantaggio a percezione sì vabbè ma già c'hai 800 c'hai 800 di per esempio da 27 vado a 22 aiaiaiaiai marcello pensaci è un'ottimizzazione questo scudo vabbè però finora anche il suo super la sua super osservazione è stato utilissimo fino adesso non c'è niente da dire era fortissimo la roba allora poi secondo oggetto la spada immagino la spada la spada no no prima la spada vado in ordine cioè insieme c'erano spada e scudo questa avrebbe fatto sbavare qualcuno ma non voi perché è la spada corta Oli Avenger è una spada più 3 nessuno di noi quindi il livello lo faccio da paladino io se ho capito bene è una spada corta più 3 quando solite robe da Oli Avenger quindi quando colpisci un demone o un non morto gli fai 2 dadi da 10 extra radianti con questa cosa qua dalla chat vi suggeriscono andate di doppio scudo Andros e poi cioè usi 2 scudi e picchi con i calci no? cioè vai così e calci e basta che male come pensate ah sì pa 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 ah e giustamente quando aspettate sì vabbè ma richiede a tune mentre da un paladino quindi è inutile però è bello che crea anche un'aura di 10 feet e tutti hanno vabbè di nuovo tiro salvezza con vantaggio contro gli incantesimi è fortissima purtroppo nessuno di noi ha quella classe lo so non è per voi però no però ci sta bella che ci sia bella che ci sia allora vabbè lo scroll of the pact è identificato il rubino gigantesco che cos'è il rubino gigantesco allora il rubino gigantesco è un portale è un cubo dei portali è come il tridente se ve lo ricordate il tridente questo è sostanzialmente allora adesso ve lo dico è a forma di rubino e non c'ero io allora non c'era Marcello c'era Marcello è il cubo allora sì il cubo di forza è un cubo di forza no non so aspetta 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 te lo dico questo oggetto ha più effetti allora quindi funziona come un cubic gate quindi puoi usare un'azione e premere un lato del rubino per lanciare l'incantesimo cancello ok aprendo un portale al piano collegato a quella a quella cosa oppure oppure puoi premere un side sul cubo e casti un plane shift sul sul cubo ok cioè vi fa da plane shift gate vi ricordo che è brutto come incantesimo eh ok perché è brutto allora apre un portale in un posto preciso il portale ha 8 dimensioni e dura per la durata e poi aprirlo anche nelle vicinanze di una creatura che conosci che è su un altro piano esatto se conosci il nome pseudonimo titolo vi dico che è un incantissimo che costerebbe un diamante da 5.000 monete d'oro fare e avete tre cariche di sto coso qua che si ricaricano che si ricaricano poi vedremo i piani in cui è messo perché uno è il piano della morte sicuro poi gli altri adesso li vediamo poi di oggetti non identificati c'era una quivera ovelonna era qua ancora non messa vabbè giavellotti del lightning ah l'elmo 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 nero è un elmo dell'oscurità rispravamo già questo per qualche motivo bene perché sì perché era vi avevate fatto la lore la lore su questo allora in pratica 15 foot fit di raggio intorno all'utilizzatore è di oscurità intorno all'utilizzatore quindi la vabbè la allora funziona così scusatemi che vado avanti perché lo descrivo tutto avete oscurità intorno ed è considerato un'oscurità magica non è dispellata dagli incantesimi di luce questa oscurità chi lo possiede ha dark vision 60 feet e questa dark vision non è influenzata dalla oscurità dell'elmo tradotto avete presente la roba indegna del warlock tu hai sempre vantaggio e gli altri hanno sempre svantaggio benissimo cioè se è qualcuno che non vede nell'oscurità che non ha tremor sense o vista vera o quelle cose lì vuol dire che tu attacchi con vantaggio e quello con svantaggio quando sei su questa roba qua la fare 3d lonna posso prenderla io per i giavellotti del fulmine puoi completamente avvolgere l'elmo per non fargli emettere l'aura di buio per un ladro sto qui è con questo sbava un ladro c'è un oggetto per ogni classe effettivamente per ogni archetipo questo mi piace allora poi io e l'arpa che spara bombe nucleari non l'ho mica vista l'abbiamo trovato la tua arpa è già l'arpa che spara tu hai la tua arpa ti dà più 2 alle dc dei tuoi spell ce l'hai già fede è già sbroccata solo per quello solo per quello più 2 arpa no non dico nel santuario di sidon dico in questa avventura si 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 bene davano un po' vabbè il il guanto è rotto e non funziona e quindi non si sa che cosa facesse bene il guanto dell'infinito il guanto dell'infinito non si sa che cosa si possono recuperare le gemme si possono recuperare le gemme è il teschio di balmitria è il teschio di balmitria è il teschio di sua mamma quindi magari dicevo la faretra di la quiver di elona la prendo io per metterci giavellotti nessuno di noi è un arciere quindi nessuno di noi ne ha trovate beh alcuni giavellotti volendo del fulmine ce ne sono tre non ne avevate un botto di giavellotti del fulmine io al momento ne ho cinque e ce ne sono altri tre nell'infinito comune li prendo io dai ok li puoi prendere tutti tu pulbug non gli farebbe schifo averne uno anche due io ho l'arco l'arco per sparare le frecce tu hai l'arco non sparerai mai il fulmine diamo tutti e tre i giavellotti a pulbug mi segno che ce li ha pulbug dove sono ve lo dico è perché pulbug si offre cioè perché in questi combattimenti pulbug al momento è attunato all'ascia e la tiene all'armatura e la tiene si io quasi quasi gli darei l'elm of darkness sarebbe un peccato non vederlo mentre mena la gente devo dire glielo chiedo avresti la possibilità di colpire con assoluta precisione i tuoi avversari senza esporti inutilmente allora non è proprio proprio convintissimo da questa tua offerta non è la sua non è proprio il suo stile tu dici che problema c'è basta attaccare senza difendersi e i miei colpi sono precisissimi non è che non vedo dove sussista questo problema qua se non lo vuole non lo spazio per le corna può avere difficoltà quello lì sì però se non lo vuole non lo nevo avevo gli hp ridotti giusto? sì glielo avevo ridotti io chiediamo a vallus può fare qualcosa anche riguardo a questo se può non ricordo se poter ah io dal dallo zaino tiro fuori la corona d'oro la corona delle regine del passato di Maitros ok ce l'avevi tu o ce l'aveva Stavros questa qua? no la corona è nello zaino è nella cosa comune ok aspettate un attimo non mi ricordo il oh cazzo dovrò rifare i conteggi per Stavros ci sei? sì sì sto qua Stavros ce l'avevi tu la corona? no no ok e io vorrei fare una cosa questa apparteneva alle regine del passato di questa città sei l'attuale regina vallus prima di prima di dimenticarmene prima che gli eventi ci travolgano appongo un ginocchio a terra vorrei vorrei fartene dono ok lei lo accetta questa cosa qua però ti dice che non è il momento in cui più adatto per ostentare questo genere di di potere te la sto donando adesso finché siamo tra di noi certo non so cosa succederà dopo anzi tra due giorni potrebbe esserci il rischio che tu non possa più indossarla per motivi fisici quindi vi sto togliendo le ferite perché tanto già già so che non non ci sono altre commente e questo è l'unico momento in cui mi è venuto in mente di farlo e allora accetto volentieri sorrido allora madonna il rubygate il rubygate scusate il rubygate Flavio ti ricordi cos'è il rubygate eh purtroppo non si può dire allora questa cosa qua vi porta fate gate vi porta al cospetto della nipote di Mubarak volevamo dire beh ci sono dei vantaggi essere a suo cospetto oh santo cielo effettivamente adesso un plane shift serve per andarci effettivamente ciao allora oh ok basta in questo senso adesso io andrei in chiusura ragazzi perché è ora ci dai il long rest sì certo scusatemi non ve l'ho dato prima possiamo fare quindi possiamo fare il livello sì 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 il livello potete farlo vi avevo detto fatelo pure iniziate pure a metterlo dentro perché il mio problema vabbè io vorrei prendere Elemental Adept Elemental Adept si può fare quello che ti toglie la resistenza ai nemici toglie la resistenza al fuoco per il fuoco esatto lo sai mettere adesso mi sto facendo dai fit prendi fit te lo trascini sulla scheda di solito si mette nelle abilities nella scheda delle abilities metti ok vediamo ok detto questo diventi l'hai già messo diamo il livello no non ti vedo ancora di dodicesimo ci sono altre robe che aspettate ricordatemi che cazzo sbloccavate io il terzo attacco me coglioni a quanto andiamo di fama ecco a questo volevo arrivarci anche perché vi beccate tre di fama qua sopra andiamo a quattordici sì perché in realtà qua sopra è il complice anche il fatto del marinaio che bravo Marcello sparge notizie ovunque di quello a cui ha assistito per cui dite temete non la furia del del titano perché gli abbiamo spanato l'ano questo è quel che cantano nel come si dice nelle nei postacci esatto nelle taverne il munco al dodicesimo hai solo l'abilità al dodici tanto è una roba se siete è l'ability score giusto abbiamo tutto il talento al dodici poi il talento o andros tu prendevi talenti o alzavi perché io penso che alzerò wisdom che a te si alza di uno la classe armatura così esatto e mi alza di io anche il tiro salvezza e anche il tiro salvezza contro lo stun e il mio tiro salvezza su wisdom e il tuo tiro salvezza su wisdom certo te lo metti tu il potremmo se è che si sta pensando perché allora se ci dovete pensare pensateci il 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 druido adesso che cos'è che cazzo vabbè le vedremo se ci sono le robe da mischiare a me non cambia assolutamente niente neanche cazzi di sesto cambia un cazzo cazzo no no già prima non cambia niente ce n'hai uno in più e i rametti di vischio ti aumentavano i rametti di vischio ti aumentavano certo questo si ok a un livello 1 quindi non è in più ok molto bene dobbiamo levarci il 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 quanto erano le le ferite extra le ferite extra 7 chi se li ha raggiunti erano 7 punti ferita già fatto 87 sono 94 ho rimesso i punti ferita a bulbug che andava a 110 però è stata ha dovuto lanciargli un greater restoration ok aggiorniamo ballos comunque c'è nulla di automatismi per il fatto della resistenza al fuoco e del no il fatto che gli uno diventano due eh che del fatto che gli uno diventano due gli uno diventano due ah no non c'è gli uno diventano due diventano due non è un error roll allora no te lo devi segnare tu te lo devi segnare tu aggiungere un danno quando succede vabbè ma è giusto per prendere il tutto più semplice no quello non c'è c'è per oddio non so se c'è quella cosa per togliere la resistenza al nemico non credo vabbè quando sarà neanche se lo trasformi in damage senza tipo in quel caso sì però ti passerebbe anche l'immunità passerebbe anche l'immunità quello lì sì però a quel punto dovrei dire io se attacchi un elementare di fuoco non è che gli fai danno dicino non tirare non tirare non tirare quel punto sì si può fare in quel modo lì di togliere il tipo tutti i tipi dovrebbe essere untyped neanche force o cosa non deve essere né force né magic c'è solo damage damage basta che scriva fire con la f maiuscola e il programma non lo legge più ok molto bene allora signori e signori ci vediamo non giovedì prossimo tra due settimane tra due settimane perché giovedì prossimo saltiamo iniziate magari voi a dirmi meglio come preparate le vostre forze vi anticipo che vi anticipo questo se volete che tanto non è che lo vogliamo rigiocare la cosa non vi concedo l'ugenza ah che figlia di puttana e Vallus vi dice che è estremamente teso specie dopo che è venuto a sapere che Sidon ha sostanzialmente promesso vendetta e che gli avete distrutto la torre quindi Temeri picca sulla città temeri picca sulla città se gliel'hanno detta così gliel'hanno detta sbagliata perché lui ha detto uniti voi mai a distruggere Maitros un po' diverso la cosa quindi lui ha già partito per farlo comunque no a voi aveva offerto in realtà di ehm si ve l'aveva offerta di risparmiarvela la città eh cioè ha detto seguitemi come seguitemi stringete un patto con me e e a quel punto Maitros è salva però detto questo ragazzi quindi dicevo ci si vede giovedì prossimo per quanto riguarda invece il canale domenica eh dovremo giocare l'ultima sessione di ehm Blade Runner non so dove l'ho fatto finire fatemi sapere se vi interesserebbe vedermi chiacchierare e montare un Blue Eyes White Dragon non lo so a chi possa interessare questa roba qua perché finora ho montato sostanzialmente tutti i le miniature di E-Man ho finito di montarle tutte bravo ho preso tutte le mini di E-Man tutte quelle dell'Orda e ho preso ho preso anche Orda che quant'altro ho preso tutti in realtà non le sto dipingendo non le sto dipingendo perché ho uno Scarecrow che ho fatto un casino con un colore che ho provato e devo fare la roba di fixare gli errori la roba di fixare gli errori è quella roba che mi fa passare la voglia di ripigliare una miniatura in mano anche a me è proprio ma fixare gli errori è che o provo o faccio una roba lunghissima è quella che devo fare e quindi li ripitturi no no sono allo step prima se faccio questa cosa lunghissima posso fixarlo ma senza ripitturarlo se il fix questo qua non funziona l'ultimo step è cavalli via proprio il colore ripartire da zero perché purtroppo è un colore che ho creato io cioè l'ho fatto dai pigmenti del hai presente di quelli che sono a luce fosforescente quelli che sono sensibili alla luce e ho creato e ho creato il colore e il problema è che ha dato un effetto di merda e adesso lo sto coprendo di nero dove deve essere devo ridare la base di grigio chiaro dove non deve essere per poi sulla base di grigio chiaro ridare il colore cioè devo ridare proprio è come se stessi facendo sia il primer che la base è una rottura di coglione infinita praticamente è una miniatura immagina umanoide in cui devo disegnare le ossa sulle gambe devo disegnarle a mano libera è un lavoraccio è un lavoraccio di merda per cui se avevo la base del colore che era stata data bene a quel punto l'idea mi era la base del colore data che funzionava coprivo col nero che è la cosa più coprente che esiste dei colori facevo le zone d'ombra e invece è venuto una merda quel colore lì che non si può tenere non si può tenere è inguardabile probabilmente c'è un modo per usarlo ed è che io lo dipingo normale e quel colore lì lo do alla fine dopo aver dipinto tutto solo per dare l'effetto glow ah ora ho capito di quale pupazzetto stai parlando scareglow scareglow che è scheletor che si illumina scareglow io da piccolo credevo fosse sempre scheletor quello lì non avevo capito che fosse un personaggio diverso però va bene potrebbe avere senso potrebbe avere senso però sono quelle robe però quel colore lì quel colore lì devi trimmerarlo devi diluirlo devi diluirlo con del contrast medium secondo me sì ma il problema è il pigmento è un pigmento che non è ultra sottile è un pigmento fatto non per la pittura di miniature ma per la pittura a tempera e tempera a olio è molto figo perché si illumina di bestia quella roba lì io finora ma l'ho visto le foto le condivise si illumina di bestia però sotto poi viene una merda il colore è proprio dato a spegnellatone brutte salutiamo la gente e lasciamo andare chi di queste cose proprio non gli può interessare minimamente tipo Marcello che ci sta guardando ma non è vero Marcello le miniature sono una figata devi imparare anche tu a dipingere costa troppo i colori io non sono d'accordo con le cose che vanno dipingendo è vero cazzo potresti fare secondo me dei lavori però meravigliosi tipo la gente che cosa cazzo è questo tipo non so gli ultramarine guarda che bel blu che hai trovato sono viola ah sei dal tonico eh sì ah ok eh vabbè tu dipingi secondo i tuoi colori ci fai una roba molto figa e tu dici e noi guardiamo tutti ma cos'è questa merda no non cos'è questa merda ma che cos'è questa combinazione di cos'è questa color palette si dice ma si non vedi che ho fatto le sfumature si ma hai usato il blu il viola il verde per fare le sfumature scusami che cazzo di sfumature hai fatto la farei facile fare tutte nere punto eh vabbè primer no che primer c'è proprio c'è il capitolo per farle nere sì beh i dark i dark templar fai oppure i la fettura nera ha fatto sì fai quello e il contrasto di grigio e hai fatto i dark templar o grigio e o e bianco sì gate la spell di nono bene ragazzi abbiamo finito ci si vede restate aggiornati e fino alla prossima ruolate che vi passa ciao a tutti ciao